Siamo qui con Calunzo Gin per la Cantina Manicor, uno dei pionieri della biodinamica d'Alta Tessina, ma direi di più italiana. Qualche novità che stanno? Cosa ci presenti di nuovo? Noi siamo sempre molto stassi con novità e cerchiamo di migliorare anno e anno le cose. E già parte lì. Però qualcosa di nuovo c'è nel legamento perché abbiamo avuto due anni fa l'occasione di acquistare una vigna nuova, veramente un grande guac. Una vigna ripida tra 600 e 730 metri, sopra merano, con croccia granitica, con pregamento isolato, con 2,7 enteri coltivati. Lì al momento abbiamo solo un po' più di venta nuova linea, il resto lo faremo i nostri anni e lì abbiamo un progetto molto speciale perché vogliamo fare viticoltura rigenerativa, viticoltura low impact. Una cosa veramente importante è che uve, vogliamo lavorare con uve di nuova generazione, resistenti ai pagassiti tipo per i nostri figli o papà, per rinunciare completamente a ogni trattamento di liame e dorso, vogliamo, come ho detto, lavorare non solo in biologico e biodinamico, ma anche in una situazione completamente insostenibile, autarca, senza, o almeno possibile, in bocca al lupo e buona fortuna.